Da oggi e fino a domenica le Terme Tettuccio di Montecatini ospitano l'ottava edizione del festival Food & Book, manifestazione dedicata alla cultura del cibo, il cibo nella cultura, ad inaugurare il festival la partecipazione dello storico Donald Sassoon, con una lezione magistrale sul tema La cultura unisce. Non credo che la cultura salverà il mondo. La maggior parte delle guerre degli ultimi 20-30 anni, e soprattutto quest'ultima guerra tra Russia e Ucraina, sono tra gente che ha molto in comune, che ha un gran pezzo di cultura in comune, eppure si battano. Per salvare il mondo occorrerebbe maggiore intelligenza, maggiore razionalità, e ce n'è sempre di meno in giro. Tra le novità dell'edizione 2022, spostata a maggio, saranno presenti gli organizzatori di Bere Rosa, la più grande degustazione nazionale, con centinaia di etichette di vini rosati, che, oltre al tradizionale appuntamento di Roma, farà tappa a Montecatini nelle giornate del 14 e 15 maggio. Che rapporto hai a lei col cibo? Io ho un ottimo rapporto col cibo. Mi piace cucinare, a casa cucino io. Siamo una famiglia di origine medio orientale, e il cibo è assolutamente centrale alla nostra vita. Dal momento che lei è uno chef, qual è il piatto che le riesce meglio? Il piatto che faccio più spesso per i miei amici è troffia al pesto. Anche quest'anno si rinnova la collaborazione con l'Istituto Alberghiero, tra le altre partecipazioni, gli scrittori Gaetano Savatteri, Marco Vichi, Leonardo Gori, Roberta Dejana, il poeta Claudio Damiani, gli chef Renato Bernardi e l'attore Gino Manfredi, che sarà interprete di una performance poetica intitolata Le Rose e le Parole. Un'edizione che si caratterizza per cosa? Internazionalità rispetto alle altre, per la presenza in città di personaggi legati al mondo della cultura e della cucina. Andy Luotto, che da anni è uscito dal mondo arboriano, si è inventato nel ruolo di cuoco e di presenza fissa televisiva su alcuni canali tematici.